C'era una volta la perla di saggezza 92, la pronuncia. Si ripresenta il problema rinnovato praticamente di un anno, perché penso che la perla 92 risalga a un anno fa. Un nostro allievo della Gessdrama Academy sta studiando il latin. Tra le tante cose che può sentire, che può ascoltare, che gli facciamo ascoltare per avere un'idea, a partire dalla musica folcloristica brasiliana, per poi approdare al Brasile più vicino al jazz, che è quello che in realtà ci interessa di più. Jobim, João Gilberto e compagnia. Musica meravigliosa. E poi ascoltare i batteristi. La bossa nova è diversa dal samba, il samba comprende 500 varianti diverse, che io non ne conosco neanche una, so fare quella appunto. È un po' come parlare di jazz. Suono jazz? Va bene, suono jazz, però suoni cosa? Suoni Red Time, New Orleans, suoni in una marching band, suoni in una Dixieland band, suoni in una big band tipo Fletcher Henderson o tipo Bob Minzer, suoni swing, ma swing in quartetto o in settetto, suoni in una big band swing o in una big band bebop, suoni hardbop o bebop o latin o free o pop jazz o rock jazz, è capito? Ecco, quindi anche nella musica brasiliana ci sono un miliardo di differenze. Che con questo nostro allievo, per avvicinarci al mondo latin nel jazz e per partire da uno schema conosciuto in tutto il mondo e che è il punto di partenza validissimo anche dal punto di vista di scrittura sul pentagramma per poi trovare molte varianti, è il Mozambico di Steve Gadd. Due misure, due tracce, la mano sinistra e la mano destra, che fanno delle note, è la cosa più semplice del mondo da leggere, da interpretare, però, però, legando questo argomento alla perla 92, la pronuncia, gli esempi che questo mio allievo mi porta sono didascalicamente perfetti, ma manca poi tutto il sentimento, la pronuncia, e torniamo sul vecchio argomento, bisogna ascoltare tanta musica, bisogna anche interpretare, per esempio, pensiamo proprio al Mozambico di Steve Gadd, la prima volta che lo ascoltai su un disco fu nel disco Friends di Cicorea, che mi fece ascoltare per la prima volta Ella De Bandini alle tre di notte nella sua macchina fuori nella piazzetta di Brera a Milano dopo una serata, lui aveva questa cassetta, vieni a sentire, e lì ho sentito il Mozambico, quando suono un groove vicino al Funko, vicino al Latin, lo uso sempre, ma lo uso a modo mio, ovvero, quello schemino di due misure, che serve come guida, per capire che la destra fa titi, e la sinistra fa ta, titi, tatiti, tatiti, questo l'abbiamo scritto, lo fa anche mia nonna, lo fa tutto al mondo, poi va interpretato, in base anche a quello che è il tuo idioma musicale, amo Gadd, perché c'è dentro tutto, c'è dentro il Pop, il Rhythm and Blues, il Blues, il Jazz, quindi l'idioma, il portamento dello swing, il funk, il pop, tutto. Di Steve Gadd ho preso le cose che ho potuto rielavorare a mio modo. Dettagli, tutti elementi che emergono nella mia mente in base alla musica che ho ascoltato e alla musica che ho suonato. Per cui quelle due misure di Mozambico e di Steve Gadd neutre diventano un qualcosa che io interpreto in base a un pensiero musicale che è più vicino a Louis Armstrong piuttosto che a Charlie Parker piuttosto che a Sonny Rollins, piuttosto che eccetera. Così si fa uno più uno. Mozambico, per esempio, con il nostro drumming e la nostra intenzione musicale li sommiamo e viene fuori un Mozambico alla Bagnoli, alla Gigetto, alla Pieripicchio e alla, alla, alla. E ognuno fa il suo Mozambico. Altrimenti diventa un clonaggio stupido e privo di qualsiasi sentimento personale musicale di una linea, di un groove ripetuta così, semplicemente perché è scritta così sul pentagramma. Il Mozambico era l'esempio per questo argomento perché affrontavamo il Latin ed è partito da lì, ma vale per tutto, vale per qualsiasi groove, ha maggior ragione quei groove funk di cui io non posso dire nulla perché non è il mio campo, ma che però le orecchie e le ocche funzionano. Quando sento dei groove funk fatti da il batterista che ha inventato quel groove sento che sta suonando perché sta credendo a ogni nota e ogni pausa che sta facendo. E ogni nota e ogni pausa che sta suonando è il riassunto di un pensiero, di un'emozione, di un momento viscerale che porta a suonare quel groove in quel brano. L'interpretazione copiata, studiata, analizzata a tavolino di quello stesso groove suonato da uno che sta studiando, che sta mettendo a fuoco la cosa, non ha nessun trasporto musicale. Studiare, studiare delle frasi, dei groove, delle linee ritmiche ben precise sapendo che poi dobbiamo convogliarle nel nostro quotidiano musicale. Altrimenti diventa, con tutto il rispetto, perché serve anche quello per passare il tempo, per allenare le orecchie e per arricchirsi, ma è come suonare al saggio il pezzettino del pianoforte, la melodia studiata con le dita, primo, terzo, quinto, quarto, secondo, ce l'ho fatta, non ho capito un cazzo di quello che ho suonato, semplicemente ho messo le dita giuste sui tasti. È un po' la stessa cosa.